Leo Felicetti contro il Villach sarà un'altra partita contro uno dei top team della Lega. Contro Villach e Bolzano ha perso la Stathalle, cosa bisognerà fare di diverso in questa partita? Sicuramente portare la partita che abbiamo fatto contro il Vienna eliminando le penalità. Abbiamo giocato bene, puntato tanti dischi in porta, giocato con velocità, ha mosso veloce il disco e quelle sono le chiavi per il successo della nostra squadra. Siamo una squadra fisica ma allo stesso tempo veloce, quindi il gioco che dobbiamo portare è quello e cerchiamo di farlo per la prossima partita qua. Quanto è stato importante aver trovato sei reti contro il Vienna dopo che era qualche partita che i Foxy si facevano fatica a segnare, soprattutto il 5-8-5? Sicuramente è stata una cosa chiave anche per il proseguimento della stagione. Abbiamo visto che più dischi buttiamo in porta e meno giocate difficili proviamo e più le partite vanno a buon fine, quindi cerchiamo di restare su quella via là e dare il massimo per la prossima partita. Brad McClure contro Villacca sarà un gioco difficile, un gioco di uno dei top team della squadra, cosa rispondete di questo match? Credo che sono una squadra molto offensiva, credo che se concentriamo sulle strutture e abbiamo avuto le opportunità, ma abbiamo bisogno di rispondere la loro squadra.